ce l'abbiamo fatta ragazzi ce l'abbiamo fatta io me lo sentivo quindi abbiamo preso la bad ma chi andrea alla fine un grande solo tipo la nuova serie a titan no non ha seguito si si ha seguito dice che non ce l'ha fatta più andrea è stato orribile per me ero in un loop è stato brutto però io mi sono divertito comunque cazzevongole ha donato due euro porcodio ragazzi state male com'è andata malissimo cazzevongole ribenvenuto malissimo sto per aprire la streaming su sul telefono ci vediamo tra cinque minuti questo è il più simpatico lo so ma non ce la faccio i 14 giga meglio occupati sul tuo cabino comunque erano tutti di video i 14 giga perché il gioco sbattura meno anche del primo non lo so come siamo là comunque si è produrato tutto lo rivolete entro del cangiano ragazzi mi è piaciuto a me è piaciuto un botto a me pure in più sembra ci sia molta roba da fare però la cosa della corona boh l'arantulati che potevamo fare la seconda eh screen saver screen saver sono pazzo non faccio così pazzo del cazzo malato 30 anni giocherello si giocherello cos'è sta cosa dei follower che non ci è mai stata eh ragazzi perché siamo in live dal telefono tutti che mi guardano porca madonna non ci sono